Ranking Gold Span Team è un progetto che noi stiamo lanciando come sostegno ai giovani Cavalieri Amazzoni. Ranking Gold Span Team prevede contributi economici per atleti di primo, secondo grado e brevetti. Per entrare a far parte della ranking invia la tua adesione al programma e partecipa ad uno dei concorsi di selezione che trovi sul sito www.goldspan-italia.com Vogliamo appunto sostenere i giovani nell'equitazione e soprattutto sostenere gli sforzi che sia i giovani cavalieri che le loro famiglie fanno per far sì che possano proseguire la loro carriera in questo sport.